Mauro De Cesare, tecnico della selezione Grandi Calciatori Mirabello, in prima linea nel ricordo di un amico, un memorial Nicola Ferro, prima edizione, tanta emozione. Guarda, anzitutto una cosa, volevo ringraziare voi, te in particolare, Stefano Antonello, l'ordine dei giornalisti che ci avete coinvolto in questa bella iniziativa. Come ci avete chiamato abbiamo preso proprio al volo, perché poi Nicola era un paesano, amico, ma a me personalmente poi ci sono dei ricordi belli, insomma, mi emoziono anche a fare dire queste parole. Ad esempio lo ricordo per la sua schiettezza, sincerità, ragazzo brillante, quindi è stato bello per noi voler partecipare, essere attivi, quindi vi ringraziamo per averci resi partecipe e dobbiamo farlo anche per gli anni prossimi, Stefano. Dobbiamo migliorare, dobbiamo creare una prosecuzione di questa iniziativa per ricordare Nicola che lo merita. Una selezione di grandi calciatori con l'ordine dei giornalisti, c'è stato un grande lavoro d'equip alle spalle, questo ha reso l'organizzazione meno complicata. Sì, assolutamente, in sinergia, ci siamo sentiti un po' questi ultimi giorni anche un po' allacremente, però siamo stati uniti, abbiamo creato questa bella iniziativa e ci divertiremo, penso di sì, c'è tanta gente, vedo che sta avvenendo e faremo anche una bella partita e ci sarà anche competizione, penso, perché qua alla fine nessuno piace perdere e ci divertiremo, sicuramente ci divertiremo. Diciamo che Nicola, essendo stato giornalista sportivo, penna di rilievo della nostra informazione, avrebbe gradito questa partita. Assolutamente, Nicola, era appassionatissimo di calcio, da ragazzo subito è iniziato a girare per i campi e a seguire il calcio. Antonio, il papà è stato presidente del Mirabello, quindi il calcio è sempre stato nella sua vita e noi siamo qui proprio per questo, per ricordarlo, quindi non solo come giornalisti, ma anche perché lo conoscevamo personalmente, siamo stati amici, abbiamo condiviso tante cose belle insieme, ad esempio abbiamo condiviso momenti importanti come la nascita dei nostri figli, il mio primo figlio che giocherà e Cecilia, sono nati lo stesso giorno praticamente a 24 ore di distanza e quei momenti li abbiamo condivisi. Ho un bel ricordo anche personale suo e quindi questa iniziativa è proprio per lui, per la famiglia, per fargli fare un sorriso, per lasciargli un pochino questo ricordo, per fargli capire che noi abbiamo... Nicola ci ha lasciato qualcosa e la nostra presenza qui lo deve testimoniare. Nicola ci ha lasciato un pochino.